Master Fruit, un corso tecnico avanzato dedicato alla frutta, un'immersione, un full immersion totale nel mondo della frutta. Si è tenuto in questi giorni presso il ristorante Le Tre Rose a Bono in Sardegna e io li voglio veramente ringraziare di cuore per la loro alta professionalità e per la grande ospitalità che non mi hanno fatto mancare. Grazie! Un abbraccio dal ristorante Le Tre Rose di Bono. Tanti saluti della sorella e grazie a tutti!